il piano di gioia e la malaria eccomi alla marina di gioia una strada incrocia la mia con questa indicazione strada nazionale dal tirreno a lionio bei nomi ma tremendo paese qui comincia il piano di gioia di creta alluvionale sedimento dei fiumi petrace e mesima per 20 chilometri si corre nelle macchie poi lungi dal mare la malaria è qui terribile dall'agosto all'ottobre a gioia il personale della stazione è cambiato ogni 24 ore persino i contadini livida processione prima del cadere del sole fuggono verso palmi eppure la vegetazione è meravigliosa gli uriveti imponenti vasti campi di fave si alternano a cedui inestricabili a macchie dense irte di rovi ma dove il terreno è scoperto ivi dissecca e si rapprende screpolandosi in grosse e dure zolle friabili come l'argilla figulina quella crosta quasi pietrosa che diventa rovente al sole fa fermentare e ribollire il sottosuolo umido che per l'impermeabilità sua trattiene l'acqua introducendo un bastone tra zolla e zolla nelle screpolature a 40 o 50 centimetri si incontra un fondo di melma entro cui la punta sparisce per uno o due metri è là l'officina micidiale dei miasmi è da quelle fenditure traditrici che lo spettro della malaria sbuca maligno e non visto e prende ai precordi il contadino indifeso perché fiacco e lo inchioda alla gleba ucciso dai brividi del freddo sotto il rovello del sole tremendo è il caldo presso lo sarno con una piccola diversione scendo la ferrovia dove da tre mesi c'è una fontana passibile di acqua condotta incontro una donna di orribile sporcizia che pulisce il naso di un moccioso marmocchio di sei anni con le dita e asciuga la mano sul proprio viso salute riattacco la lunga salita solitaria in mezzo ai campi e ai boschi a 360 metri di altezza verso sera entro in mileto